Sì, esate, sono proprio io, Katzloon! Non può essere... Sono tornato per ripre... Non può essere... ...il riprendermi quello che è mio, ovvero... ...quello che è mio! Che si sappia, dalle cime delle valli, al fondo delle montagne, al fondo delle vallagni, alla lecime delle montalli che cazzo lungo è vivo e nessuno riuscirà a incularlo neanche il grande guerriero cacone fermi la pergamela ok ok vi fermo quello che volete oh maestro fushi un momento fatemi giusto così è molto peggio dobbiamo parlare assolutamente parliamo col cazzo il bastone della schiccezza mi è stato donato personalmente dal maestro si dice che chiunque possieda questo bastone abbia il potere di cagare tra un regno e l'altro e ora anche il potere di uccidere ci saranno anche i 5 cicloni no se ne fottono nel loro lavoro accolto il vostro cipiglio di disapprova hai rotto il cazzo è il momento che tu scelga il tuo successore che diventi il prossimo guerriero cacone divertente sono io il guerriero cacone non sarò più io il guerriero cacone esatto e allora cosa sarò andrai a studare cessi credo che mi terrò al posto di guerriero cacone ma che cazzo dici che cosa hai in mano? marijuana l'altra mano il bastone della schiccezza l'altra mano l'uovo di maestro struzzo è stato un dono del maestro credi che te l'abbia dato per grattarti le palle? in behind it non è stato super preciso prendetelo voi ah interiore no però così non funziona prova a concentrarti sul rizzo sto provando ma è dura se tu continui a probermi tecnicamente sei tu che parli con te stesso brutto schizofrenico di merda ma quella non te la concedo dammela se insisti ma tutto bene raviolone ti vedo un po' stanco ma hai stato più che stronza non sono stronza si chiama Fultem ci si becca fam pa te l'avevo detto mi hai beccato un grande e potente guerriero cacone guerriero cacone tu sai qualcosa forse la so forse la so ho tempo per i giochi cazlung scorrazza libero per la valle della valle oppure forse lei vuole farti credere che sia cazlung un momento lel l'imperatrice di sto cazzo la lucertola mendace con gli occhi da rapace con gli occhi da rapace sto parlando della magaleonte non è qualcuno che si possa trovare almeno non senza qualcuno sul pezzo e dove lo trovo questo qualcuno sul pezzo quanto si vorrà a trovare una che può somigliare alla pastetta beh questo mezzoretti le vuole di più voi dovrete darmi i vostri frigoriferi no come hai detto scusa non volevo mancare di rispetto non è non è ho avuto una visione ho visto la magaleonte conquisterà paesi e città esi e la valle della valle ma perché mi stai raccontando questo sogno imbecille scusa non un sogno una visione ho mangiato un radio ruasnamo buongiorno agenti sono il guerriero cacone io e la volpe siamo qui per una missione del cazzo da guerriero cacone guerriero chi? mai sentito? forse mi conoscete meglio come sumo fan pad to jail i'm in jail now io l'ho resa ciò che è oggi stai dritta gen si maestra volevo essere una maestra di sumo cosa? sono stata rifiutata dicevano che ero troppo piccola troppo modesta e che non era il mio destino il sumo può essere eseguito dal cazzo ma i suoi segreti risiedono nello spi e ora che ho accesso al regno degli irizi ruberai il sumo di kakflung il suo è quello di ogni maestra maldestra venuto e quando l'avrò fatto l'avrò fatto levati di mezzo gen vuoi che mi levi? levami sono più forte di ogni avversario che hai affrontato perché sono tutti gli avversari che hai affrontato perché sono tutti guardate apprezzo la promozione conosco tutte le tue mosse questa non la conosci ecco questa è una mossa fof potevi uscire da quella gabbia quando volevi che stronzo non sono stronzo si chiama odem ma per l'ultima volta la parola è ok l'avete voluto voi sei completamente inutile oh santo cielo grazie leal con tutti i candidati tra cui scegliere hai scelto sta stronza quando pisci pisci capite? e va bene scegli chi cazzo vuoi un ladro, un bastone, una carola un castone, una mastota non so perché mi affanno io vado a drogarmi ma tanto ha ragione come si fa a pensare che io sia pronta beh infatti